Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Continuiamo a parlare di qualifiers e di correzione colore secondaria andando a rifinire il mascherino utilizzando i comandi di Matt Finesse. Oggi affronteremo la prima parte cioè la prima pagina dei controlli di Matt Finesse. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Oggi vediamo come andare a migliorare la resa della qualifier e in particolar modo andremo a vedere come migliorare la definizione di un mascherino disegnato appunto tramite il qualifier cioè tramite un range di tonalità, saturazione e luminance. Utilizzeremo i comandi presenti sempre nella sezione qualifier che si chiamano Matt Finesse. Questi comandi sono divisi in due pagine, pagina 1 e pagina 2. Oggi vedremo i cinque comandi che sono presenti nella prima pagina e come al solito analizziamo questi comandi su un esempio concreto. Prendiamo questa clip. Per noi questa clip è corretta ma voglio provare a fare un grading sullo sfondo cioè voglio andare a cambiare il colore dello sfondo. Invece di farlo tendere al blu magari lo faccio tendere a un rosso magenta. Come si fa? Devo andare a selezionare il mio sfondo correttamente ma vedete non ha solamente una tonalità mi cambia anche in saturazione e mi cambia anche in luminosità. Quindi con ogni probabilità dovrò andare a lavorare con il qualifier che è lo strumento più adatto in quanto riesce a mixare opportunamente tonalità, saturazione e luminance nella definizione della chiave. Quindi vado a prendere il mio nodo, faccio tasto destro, node label e qui gli scrivo ad esempio background color. Possiamo allargare o restringere la dimensione del nodo utilizzando questo comando di zoom in alto nel node editor così magari lo facciamo un po' più grande visto che abbiamo solo questo e lo vediamo meglio. Adesso con il qualifier selezionato vado in un'area di blu e vado a selezionare il mio blu ed ecco che c'è già una prima selezione ora vado a accendere i miei highlight per vedere la mia selezione. Vado ad aggiungere altri blu con il contagocce con il più blu e vado a selezionarmi altre zone di blu. Continuo a scegliere i miei blu, quindi continuo a scegliere. Vedete andando un po' avanti ho migliorato quello che è la definizione del mascherino. Io ho preso anche delle zone che non dovevo prendere, queste zone dei capelli. Qui ci sono delle zone molto scure, provo andare a togliere quella selezione sulle zone più scure quindi alzando un po' il luma per evitare di prendere troppi capelli nella mia selezione. Quindi ho spostato semplicemente l'intervallo di luminance verso destra quindi tagliando le aree più scure però come possiamo notare abbiamo ancora delle problematiche perché qua non sto prendendo tutto il blu ma sto prendendo solamente una porzione dei blu. Per vedere meglio la selezione del mascherino vado a cliccare su questo pulsante in alto a destra che corrisponde agli highlight black and white cioè mi fa vedere il mio mascherino in bianco e nero dove il nero corrisponde alla trasparenza e il bianco all'opacità cioè ciò che andrò a modificare poi in correzione colore. Quindi accendo il mio mascherino e come possiamo vedere ho problematiche nella selezione del blu. Per migliorare questo mascherino io posso andare ad agire su questi parametri per andare a prendere anche queste porzioni quindi posso provare a lavorare con i selettori ad esempio posso allargare la luminosità verso destra e vedere se mi migliora la cosa non cambia molto posso allargare un po' la saturazione ma vedete che grosse migliorie non le ho posso provare ad allargare un po' i blu quindi se allargo un po' i blu ecco che la situazione adesso direi che un po' migliora riesco a migliorare un po' la mia selezione magari diminuisco un po' il softness ok stiamo cominciando a prendere il mascherino corretto ecco quando ho fatto tutte queste belle modifiche posso provare a migliorare quella che è la resa del mio mascherino andando a utilizzare i comandi di matte fine s perché ad esempio io qui vedo qualche imperfezione ancora che posso andare a migliorare utilizzando matte fine s vediamo questi comandi come funzionano per quanto riguarda il denoise fate conto di avere una clip girata in questa maniera mi fate notare che c'è del rumore video presente che va eliminato con dei filtri di denoise ecco questo denoise non è un filtro di denoise sulla clip ma va a pulire il mascherino fa cercare di togliere tutti questi fori sui pixel che possono poi essere notati quando vado a fare correzione perché su questi pixel non andrà fatta la correzione sugli altri sì e probabilmente vedrò degli artefatti quindi vado ad ammorbidire quello che è il passaggio tra questi pixel e l'area selezionata cioè alzando il denoise vedete vengono sfumate queste zone ma vediamo agli altri comandi il clean back mi va a pulire il mascherino sulla parte di trasparenza sulla parte di nero quindi va a prendere più nero e quindi va a togliere le eventuali imperfezioni attenzione ad usarlo perché se io aumento il clean back vado a prendere nero anche dove non ci deve essere vado a togliere delle selezioni anche sul blu che magari andava bene c'è bisogno invece di fare il clean white cioè mi va a pulire le parti di bianco quindi mi alza la selezione sulla parte di blu in modo tale da togliere tutte queste imperfezioni attenzione anche qui perché se alzo troppo il bianco rischio di andare a prendere delle porzioni magari della figura che non devo prendere quindi gli interventi vanno fatti molto mirati e graduali ecco quindi ho pulito il mascherino sulla parte del bianco mentre clean back come dicevo prima mi va a pulire il mascherino sulla parte del nero ad esempio qui io vedo alcuni leggerissimi fori bianchi quindi alzando leggerissimamente vado a togliere queste imperfezioni adesso mi potrete fare notare che ci sono comunque delle aree di selezione tipo queste dove ci sono i flare che sono troppo definite ecco per ammorbidire tutti i bordi vado a utilizzare il comando di blur radius quindi alzando il blur radius e si ammorbidiscono i bordi quindi in questo modo io riesco ad essere più morbido nella correzione e magari renderla più integrata con l'immagine lean out ratio agisce in combinazione con il bear radius e va a lavorare sulla parte esterna o sulla parte interna dei bordi cosa vuol dire ti permette di scegliere se sfocare verso l'esterno o sfocare verso l'interno cioè prendere più aree di nero o prendere meno aree di nero all'interno dell'operazione di sfocatura cioè se vado a alzare lean out ratio vedrete che queste aree si rimpiccioliscono sto prendendo più selezione se vado invece verso i valori negativi vedete che aumenta la parte di nero sempre in sfocatura vuol dire che magari voglio prendere meno parti di blu perché questa è una parte che non è interessata alla correzione che andrò a fare adesso riportiamo lean out a zero andiamo a vedere la nostra immagine cominciamo a fare un po di correzione cioè andiamo a prendere l'offset quindi che mi modifica il background alla stessa maniera quindi lo facciamo virare verso tonalità di rosso di rosso magenta la prossima volta vedremo come andare a migliorare ancora di più la nostra selezione utilizzando i comandi presenti nella pagina 2 del matt finesse bene se hai delle domande in merito all'utilizzo della denoiser clean back clean white black radius presente all'interno dei comandi di matt finesse del qualifier della color page ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno del canale compagnie ho compagnie no cal cal